Buonasera a tutti, da Maria Lucevilla e dal team di Rete Informatica Lavoro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sempre organizzato dalla nostra Academy, Rete Informatica Academy. State entrando pian piano, quindi aspettiamo magari qualche istante per iniziare. Intanto posso chiedervi in chat se mi sentite correttamente, se mi vedete. Perfetto, c'è qualcuno che mi scrive, grazie, grazie Alessio, grazie Mauro, benvenuti ancora. Perfetto, tanti di voi ci seguono regolarmente e conoscono già un po' le attività di Rete Informatica Lavoro come Jobboard, ma non facciamo solo questo. Oltre a essere un portale del lavoro specializzato per il settore IT, Rete organizza il suo Career Day a novembre, il Teacher Day e webinar tecnici come questo. E a breve inseriremo delle nuove modalità formative molto interessanti che non vi posso anticipare in questo momento. Ogni giovedì organizziamo questi webinar tecnici come dicevo, gratuiti e sempre più spesso ci piace anche coinvolgere anche grandi aziende e professionisti che ci lavorano. Appuntamenti che sicuramente sono interessanti anche perché possono ispirarvi, orientarvi verso tecnologie nuove, software o linguaggi di programmazione da approfondire o addirittura anche candidarvi all'azienda stessa. Quindi questo è il terzo appuntamento. Questa sera siamo sempre con Entity Data Italia. Con loro abbiamo già affrontato diverse tematiche dai microservizi a Salesforce e potete rivedere tutti i video nel nostro canale YouTube che magari dopo vi condivido nella chat. Questa sera invece abbiamo il piacere di avere con noi Caterina Bruno, RPI, project leader di Entity Data. Benvenuta Caterina. Eccoci. Ciao Caterina, benvenuta a questo nostro appuntamento. Grazie. Perfetto, ci puoi dire brevemente cosa vedremo insieme? Certo, allora nel webinar di oggi vedremo un po' cos'è l'RPI, quindi questa nuova tecnologia, cosa tratta? Per chi non la conoscesse. Poi andremo a vedere come si sta evolvendo, quindi con l'intelligenza artificiale, magari stuzzicherò anche qualcuno. E poi andremo a vedere insieme un caso d'uso che abbiamo sviluppato e implementato su SAP, sul sistema SAP. E infine vi parlerò un po' di WePath, che è una piattaforma RPA. Ok, perfetto. Come sempre vi chiedo cortesemente di scrivere le domande solo nella sezione domande. Io lascio la parola a te, se hai bisogno sono sempre in ascolto e per chi ha bisogno in chat, per qualsiasi altra informazione sono a vostra disposizione. Buon webinar a tutti, grazie. Grazie Caterina. Grazie Magna Luce. Ok, perfetto. Allora, iniziamo. Bene, questa è l'agenda. Come vi dicevo, partiremo ad introdurre un po' l'RPA. Bene, cos'è l'RPA? L'RPA sta per Robotic Process Automation, quindi è una tecnologia che permette di eseguire step ripetitivi, quindi attività ripetitive che vengono svolte di solito da umani. Come si fa? Lo fa in maniera automatica, tramite dei robot software. Quindi quello che succede è che questi robot software possono simulare le azioni umane, quindi riescono a sostituire proprio l'umano, sollevandolo da task noiosi e anche lunghi a volte. Quindi tramite l'RPA noi possiamo definire una forza lavoro digitale, che è ad uso ed è anche gestita dal business. Con l'RPA possiamo operare e interagire con i sistemi di tutta l'infrastruttura IT, nello stesso modo in cui lo farebbe un utente. Spesso l'RPA viene in aiuto quando è necessario interagire con i sistemi legacy, magari un po' datati, che non offrono possibilità di interagire tramite API. E quindi l'unico modo per interagire con questi sistemi è tramite interfaccia grafica, quindi simulando proprio le attività che farebbe un umano. Vediamo un po' le caratteristiche di questa tecnologia. È una tecnologia non invasiva, quindi è fortemente orientata all'utente, quindi è molto semplice sviluppare robot anche grazie alle piattaforme RPA che sono low-code. Cosa ci permette di fare? Ci permette di incrementare la produttività, perché un lavoro svolto da un robot, molte volte, è più veloce di un lavoro svolto da un umano. E ci permette anche di migliorare la qualità del nostro operato, perché sostituendo l'umano va ad eliminare anche quegli errori di distrazione che magari un umano potrebbe portare durante l'inserimento di dati. È una tecnologia scalabile e flessibile, ovvero quando si sviluppa un robot per un'azienda, lo si può fare passo dopo passo, quindi magari si inizia automatizzando un unico processo e pian piano si vanno poi ad automatizzare anche altri processi, quindi è molto flessibile e scalabile. È flessibile perché? Perché essendo semplice anche da sviluppare, facilita lo sviluppatore proprio ad apportare piccole modifiche che magari in un processo possono essere sempre necessarie. Grazie alla maggior parte dei tool RPA è possibile avere un maggiore controllo sul processo e anche ad analizzarlo, perché forniscono la possibilità di raccogliere dei log di tutto quello che il bot fa. Inoltre permette di risparmiare soldi all'azienda perché sostituendo le attività umane può allocare quelle risorse umane a fare altro, altro lavoro magari più stimolante e magari un lavoro non ripetitivo che potrebbe appunto essere fatto da un robot. Ma vediamo un po' cosa può fare questa forza lavoro virtuale, cioè quali sono le attività che possono essere automatizzate? Beh, sicuramente sono quelle attività che richiedono step predefiniti, quindi sono processi guidati da regole decisionali ben impostate. Sicuramente possiamo utilizzare i robot per interagire con i database, quindi fare operazioni di lettura e scrittura delle tabelle. Un'altra modalità di utilizzare questa forza lavoro è quella di fargli compilare o leggere dati dalle form, ad esempio su portali, ma anche su CRM. Ok? Noi per alcuni clienti stiamo implementando dei robot che vanno proprio ad interagire con Salesforce, quindi seguono dei processi così come li farebbe un utente dell'azienda. Possono interagire con i social media, quindi possono essere utilizzati con quelli che conosciamo Facebook, Instagram e così via. Inoltre lavorano anche bene con strumenti che gestiscono la posta, le mail, perché possono leggerli, organizzare le mail, possono inviare mail, spesso lo fanno. Cioè quasi tutti i robot di cui mi sono occupata alla fine elaborazione inviano una mail all'utente per dargli un report di quello che è stato elaborato, oppure segnalano al supporto eventuali eccezioni applicative, eventuali problemi. Per farvi giusto un esempio, per un cliente abbiamo dovuto implementare un bot che si occupava di leggere tantissime mail e in base all'oggetto, in base alle caratteristiche, in base agli allegati che erano associati a queste mail, il bot doveva depositare e salvare gli allegati, in particolare i cartelli remote. Ovviamente tutto questo veniva fatto tramite input ben precisi dove gli si diceva al bot, se l'oggetto ha queste caratteristiche allora depositerò nella cartella X e così via. Cos'altro può fare? Può estrarre dati da report e da dashboard, può interagire e fare operazioni in applicazioni web ma anche in applicazioni in premises e infine può anche collezionare dati da portali web. Per farvi un esempio, caso d'uso giusto così che mi viene in mente, magari tutti i giorni possiamo pensare ad un bot che tutti i giorni si collega su un sito di trading e magari va ad estrarre tutte le informazioni dei titoli che ci interessano. Costruisce un report e ce lo india via mail. Bene, abbiamo parlato di cosa può fare, però cerchiamo di capire insieme quali sono i processi e che caratteristiche devono avere i processi affinché possono essere automatizzati. Sicuramente sono quei processi che richiedono molte integrazioni tra più sistemi per inserimento di dati. Giusto per farvi entrare un po' nell'ottica, ci sono dei processi che magari a partire da un Excel con dei dati estratti da un sistema, si devono andare ad inserire questi dati su SAP, poi da SAP, estrarre dei report ed inserire qualche informazione su Salesforce, giusto per farvi un po' un'idea. Sono processi di solito che confrontano dati da differenti sorgenti. Come dicevo prima, sono processi che magari automatizzano, c'è bisogno di automatizzare attività molto ripetitive, dove magari se fatte dall'umano possono avere degli errori dovute a distrazioni, magari sono processi massivi, quindi che riguardano una mole considerevole di dati. Alla fine diciamo che una caratteristica che devono avere è che devono avere un workflow ben definito, perché comunque il bot deve sapere cosa fare in ogni momento del processo. Ok, abbiamo parlato di le operazioni che possono essere automatizzate, i processi che sono candidati ad essere automatizzati, ma vediamo insieme in che modo. Sicuramente anche in base al linguaggio possiamo parlare di automazione di tipo attended, quindi in presenza, e automazione unattended. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche di queste due modalità di automazione. Quando parliamo di automazione di tipo attended, ci riferiamo a quella modalità di lavoro del bot che è affiancata all'utente. Quindi di solito gira sullo stesso PC dell'utente e dell'utente che si occupa di far partire l'automazione e anche di guidare il bot durante tutte le operazioni che fa. Sicuramente sono dei task questi che sono molto correlati a quello che l'operatore fa. Solo in questa modalità l'umano è in grado di interagire con il robot. Magari pensiamo a quei processi in cui arrivati ad un certo punto c'è bisogno dell'intervento umano affinché ad esempio validi un'operazione che è un input che il bot fa. bene, questa è la modalità giusta di automazione da adottare. In più si sceglie l'automazione di tipo attended quando l'operatore deve avere visibilità di tutto quello che il bot sta facendo. A differenza invece dell'attended, l'unattended lavora su architetture server che di solito non sono accessibili all'operatore. Per questo motivo affinché possa essere ingaggiato un bot di tipo unattended di solito si usano delle schedulazioni programmate. Sono bot che non hanno bisogno di interazione umana e di solito sono utilizzati per lavorare in modalità back office, cioè modalità back end, magari per gestire un grande volume di dati, ad esempio possono lavorare di notte, per farvi capire. E poi non sono bot dedicati allo specifico utente. Ok, abbiamo fatto un'introduzione dell'RPA dando giusto i concetti basici. Andiamo a vedere invece qualcosa di più interessante, ovvero come si sta evolvendo l'utilizzo dell'RPA e lo vediamo con questo slide. In questo slide mostriamo che ad oggi l'RPA è una tecnologia standardizzata, cioè viene attualmente utilizzata nelle grandi aziende. Non solo l'RPA basic, diciamo, ma anche l'utilizzo di tecniche intelligenti. Quindi all'RPA si può applicare anche l'intelligenza artificiale, come la computer vision, come l'image recognition e l'RPA più l'intelligenza artificiale da la nascita all'APA, cioè l'intelligent process automation, che apre le porte all'automazione di processi più complessi, che magari hanno bisogno di quel quid in più per dare effettivamente valore aggiunto. Bene, ma verso cosa stiamo andando? Stiamo andando verso delle architetture di iperautomazione, ovvero non ci basta più l'RPA e l'intelligenza artificiale, ma insieme a questi due elementi possiamo applicare il machine learning, possiamo applicare il natural language processing e orchestrare il tutto con dei tool di business process management. Vediamo un po' nel dettaglio a cosa ci si riferisce quando si parla di iperautomazione. Bene, nell'iperautomazione entrano in gioco diversi componenti. Entra in gioco l'intelligenza artificiale, come dicevo prima, tool di BPM, ovviamente la piattaforma RPA che è il cuore dell'automazione, ma anche strumenti di log collection, di discovery e di reporting. Andiamo per gradi. Cosa ci consente di fare l'IPA? L'IPA ci consente di automatizzare processi più complessi, ok? E quindi ci apre le porte anche a diverse modalità di input, come ad esempio un input che può avvenire tramite call center. Vi faccio un esempio. Supponiamo di trovarci nel contesto di una compagnia telefonica e di ricevere una chiamata da un cliente che si lamenta di un disservizio. Sarà capito da tutti. Bene, il cliente magari nell'audio comunica il disservizio, ma comunica anche il suo codice cliente per essere identificato. Così come l'audio è l'unico nostro input che abbiamo, no? Non può essere dato in input al bot, perché non saprebbe cosa farci di un audio, non è un dato strutturato. È qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale, che permette di prendere l'audio tramite tecniche di speech to text, tradurlo in testo, ok? E applicando tecnica di network language program, magari comprendere anche il testo libero. E con la text extraction, che è un'altra tecnica intelligente, abbiamo la possibilità di estrarre le entità che ci interessano. In questo caso l'entità che ci interessa è il codice cliente. Una volta ottenuto il codice cliente, possiamo dare un input a bot e possiamo mandare avanti tutto il processo di automazione. Bene, vi ho spiegato a cosa serve l'intelligenza artificiale in questo caso e quindi serve a strutturare un dato in formati diversi dal testo che conosciamo. Vediamo invece come possiamo utilizzare il BPM. il BPM, ovvero Business Process Management, è un sistema, un tool, diciamo, che facilita e permette la collaborazione tra sistemi, bot e umani. Come? Supponiamo di stare sempre nell'ambito della compagnia telefonica, magari un ambito un po' conosciuto da tutti, e di voler automatizzare il processo di registrazione di un nuovo cliente. Vi descrivo un po' il processo end-to-end in modo molto semplificato. Di solito è il cliente che vuole attivarsi una nuova linea di DSL, ad esempio, e quindi va sul portale della compagnia telefonica e quindi si registra, quindi registra i suoi dati, scarica tutti, scarica il contratto, magari cartaceo, carica i documenti di riconoscimento e avvia la richiesta. Bene, dopo di questo cosa succede? In back-end succede che deve esserci un operatore, un qualcuno che verifica l'attendibilità dei documenti che il cliente ha caricato, ok? Quindi come lo fa? Magari lo fa tramite video, tramite richiesta di conferma. Dopo di questo avviene proprio l'attivazione tecnica, i sistemi tecnici, e successivamente si comunica al cliente l'avvenuta attivazione del contratto. Tutti gli step che vi ho indicato possono essere tranquillamente automatizzati da un bot, ad eccezione però di quello che richiede il riconoscimento dei documenti. Perché? Perché per legge deve essere fatto da un operatore umano. Bene, qui ci viene in aiuto il BPM. Il BPM quindi ci permette di ingaggiare il bot per ad esempio andare ad inserire dati del cliente nel CRM. Una volta inseriti i dati del cliente nel CRM, poi va a creare un task per l'operatore che si occuperà di fare la verifica dei documenti. Successivamente andrà a richiamare, a ingaggiare il bot che si occuperà di fare le attivazioni tecniche e poi alla fine di mandare una mail di conferma attivazione del contratto. Quindi abbiamo visto come il BPM ci permette di orchestrare e di gestire tutto il flusso, quindi tutto il workflow di questo processo. Bene, nei processi complessi è molto importante avere idea di quello che è successo per poter fare analisi, magari per capire se ci sono punti da migliorare. Qui è importante quindi avere un tool di log collection e management. I log in più possono essere dati in input a tool di process mining che appunto, come dicevo prima, danno una marcia in più alla nostra automazione perché permettono di identificare delle inefficienze, permettono di suggerire quali altri step del processo possono essere automatizzati. Ok, vediamo adesso qualche tool che magari può rientrare in questo framework. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, qui abbiamo riportato i servizi offerti dalla piattaforma di Google, ma ovviamente c'è anche la piattaforma di Microsoft e c'è anche, ad esempio, la piattaforma di Amazon e così via. Per quanto riguarda il BPM, abbiamo Appian, Activity, che sono i soliti applicazioni low code. Nella parte di RPA platform possiamo trovare i tool come Blueprism, come Vipad, di cui vi parlerò alla fine di questo webinar, Nice, Automation Anywhere, e altri che ne stanno nascendo. Per quanto riguarda invece la parte di log collection, abbiamo Elasticsearch, più Logsash, più Kibana, che sono open source, o pure Slack per dirvene qualche altra idea. Per la parte di discovery e di reporting troviamo sempre Vipad, Crayon e Zora. Sto per darvi un'idea. Bene, proviamo a proiettarci un po' verso il mondo aziendale. Quando vogliamo inserire, far adottare l'RPA all'interno di un'azienda, non possiamo partire in modalità Big Bang, no? Quindi di solito cosa si fa? Si parte con un progetto pilota, quindi si individua all'interno dell'azienda un processo che sia di media complessità, quindi non troppo complicato, non troppo semplice, e lo si usa come caso di studio per poter testare la tecnologia RPA che è meglio far caso dell'azienda. Appunto, da questo progetto pilota si vanno a studiare poi, si va a capire se la tecnologia RPA è quella adatta, se si sposa bene con tutte le tecnologie che sono attualmente utilizzate dall'azienda, e comunque si definisce una roadmap di trasformazione RPA. Dopodiché si inizia a costruire tutta l'architettura RPA, e si iniziano a lanciare i primi bot. Pian piano si implementano tutti gli altri punti della roadmap, e si procede, si lavora sempre in modalità di continuous improvement, perché magari i processi, una volta che sono in produzione, ci si accorge che magari è più corretto farlo, applicare qualche modifica, si può migliorare, si può espandere, si può applicare l'intelligenza artificiale, o quello che ci viene in mente. Ok, adesso magari vi faccio vedere un caso d'uso, che è anche oggetto del nostro webinar, di cui mi sono occupata qualche mese fa. Bene, l'obiettivo di questa automazione che ci hanno chiesto era quella di simulare, vedo che ci sono delle domande, mi sa. Sì, se vuoi possiamo anche rispondere più tardi. Come vuoi, come sei più comoda? Sì, sì, direi di sì. Così magari poi concentriamo tutto quanto alla fine. Ok. Ok, vi dicevo, lo scopo di questa automazione che ci hanno richiesto era quella di simulare l'attività di uno sviluppatore SAP. Per fare cosa? Per andare ad inserire nel sistema una configurazione di una company. Ok? Bene, andiamo per gradi. Cos'è SAP? SAP, per chi non lo sapesse, è un ERP, quindi è un Enterprise Resource Management. È un software che viene utilizzato ampiamente nelle grandi aziende e permette di far coinvolgere, far coinvolgere in unico sistema tutti i dati delle diverse aree aziendali, come l'area finance, di cui ci siamo occupati noi in questa automazione. Ma cosa significa company customizing? Significa inserire nel sistema SAP tutte le informazioni collegate alle unità organizzative che formano una company, a partire da una company già esistente. Come lo si fa? Lo si fa utilizzando le transazioni che SAP mette a disposizione. Ok, andiamo avanti. Bene, ma come lavoravano prima dell'ERPA? Cosa abbiamo trovato? Bene, nell'analisi, prima di partire ovviamente a sviluppare, abbiamo visto che non avevano un documento di input, non avevano uno standard. I dati che poi andavano ad inserire sul sistema di SAP venivano veicolate tramite documento Word, alcuni tramite chat, alcuni tramite call, telefonate, Excel. Ok, così come era il bot. Avremmo dovuto automatizzare prima tutta la parte diciamo di raccolta dell'input e poi l'automazione della company customizing in sé. Bene, un altro punto critico che abbiamo trovato era quello che non c'era un workflow definito delle attività che si dovevano fare su SAP. Considerate che la customizzazione di una company su SAP richiede molti step. Noi ne abbiamo automatizzati circa 100 e questi step possono essere sia step di inserimento dati su SAP ma anche step di richiesta approvazione a procedere. quindi tutto il flusso delle attività da fare stava nella testa magari del capo degli sviluppatori e questo non ci andava diciamo molto bene. L'altra cosa che abbiamo visto è che c'erano alcuni task che erano molto ripetitivi. Quindi cosa succedeva? Succedeva che gli sviluppatori si suddividevano i record di questi task. E anche il tempo, il periodo di tempo in cui inserire i dati su SAP perché la transazione da utilizzare era la stessa ma su SAP la stessa transazione può essere acceduta soltanto da un utente alla volta. Quindi era molto complicato per questo motivo anche monitorare l'avanzamento del processo. In più per quegli step approvativi di cui vi parlavo prima non era definito uno standard. Quindi anche questo non andava bene per la nostra automazione. In più il processo di customizzazione richiedeva costi alti per per appunto sostenere tutte queste risorse e anche tempi lunghi. Considerate che si parlava di oltre 10 giorni di processo da end to end. Bene, quindi quali sono state le sfide che abbiamo dovuto affrontare? Sicuramente quello di lavorare con un input molto complesso. Complesso perché abbiamo fatto confluire in un unico Excel tutti i dati di cui il bot aveva bisogno. In più il flusso e l'avanzamento doveva essere controllato da un utente. Quindi nel primo foglio di questo Excel siamo andati ad inserire diciamo lo step che il bot doveva andare ad effettuare e anche altre informazioni come lo stato e eventuali note che vedremo poi nel flusso ad alto livello. In più ci siamo dovuti preoccupare di applicare un versionamento dell'input. Poiché dovevamo assicurarci di guidare un po' l'utente nella customizzazione, quindi nel flusso, ok? Quindi per non fargli dare in input a bot un file di una versione molto precedente. In più, come vi dicevo prima, gli step erano circa 100 e si doveva, era richiesto di accedere a diversi environment di SAP. Dovevamo anche gestire gli step di pausa dove magari il bot doveva aspettare l'approvazione ad andare avanti e questo l'abbiamo fatto applicando un protocollo di comunicazione tramite mail. In più, c'è stato detto che alcune company dovevano fare tutti e cento gli step, altri ne dovevano fare soltanto 90, quindi tutto questo doveva essere fatto in modalità dinamica senza mettere mano al codice e per fare questo abbiamo sfruttato un DB. Vediamo un po' ad alto livello corriere il flusso. Il flusso richiedeva l'ingaggio manuale da parte dell'utente e il primo step che andava a fare il bot era quello di controllare il file di input e controllare soprattutto la versione, se era quella corretta, quindi se era quella lì subito successiva all'ultima che aveva generato, in caso ovviamente di rilavorazione. Quindi l'altro step che andava a fare era quello di leggere qual era il passo da fare, ok, nel workflow di tutta la catena. Leggeva sia lo step sia lo stato, quindi ad esempio lo stato poteva essere to do, completed, pending out ed error. Quando lo stato era completed, quello che si andava a fare era andare a ricercare all'interno del DB qual era il prossimo step da eseguire. Se veniva trovato uno step, si andava avanti, si eseguiva lo step e si andava avanti a leggere l'esito dell'esecuzione di questo step, lo stato. Supponiamo che andava magari in to do, scusate, in completed, andava avanti. Potevamo trovarci anche nel caso in cui l'operatore voleva magari rifare uno step, quindi inseriva il numero dello step e lo stato to do. Quindi diceva al bot devi fare esattamente questo step. Quindi il bot in questo caso seguiva lo step e andava avanti nel flusso. Alcuni step, come vi dicevo prima, non erano step che riguardavano l'inserimento di dati su SAP, ma potevano essere step di richiesta approvazione. Come venivano effettuate effettuate le richieste di approvazione tramite mail. Quindi il bot si occupava di inviare una mail ad una particolare distribution list e abbiamo inserito un codice all'interno di questa mail che le identificava univocamente. Perché l'abbiamo fatto? Perché dovevamo poi controllare se il feedback di quell'approvazione ci veniva restituito per poter andare avanti. Quindi c'erano alcuni step all'interno del flusso che andavano in stato pending auto e si controllava appunto il feedback, se era stato ricevuto il feedback di quella particolare mail. Mettiamoci nel caso in cui ci veniva risposto con ok all'approvazione, allora si andava avanti nel flusso e si eseguivano tutti gli altri step. Nel caso in cui durante il controllo del feedback vedevamo una risposta con KO, il bot andava a produrre un file di output e si fermava. Quindi doveva essere poi magari risolta la questione back-end, ok? Senza coinvolgere il bot e poi lo si poteva far ripartire. Quando invece magari ci trovavamo in uno stato di errore, il bot si fermava, inviava una mail a supporto e non andava più avanti. Alla fine del flusso, quando non trovava più step da eseguire, inviava una mail di fine esecuzione all'utente finale per avvisarlo. Bene, quindi quali sono stati i tool che abbiamo utilizzato? In questo caso abbiamo utilizzato UiPath come piattaforma E.P.A. con anche l'orchestrator che poi vi descriverò. Abbiamo utilizzato l'excel per salvarci i dati che dovevamo utilizzare per l'inserimento su SAP e anche per guidare il processo, ok? Outlook per richiedere e ricevere i feedback tramite mail, SAP per inserire i dati e il DB per salvare dei log un po' più approfonditi e anche per mantenere la configurazione di tutti gli step che il bot doveva andare a fare. Diciamo che per questo caso d'uso sarebbe stato ideale utilizzare un BPM, ma non era diciamo nel perimetro del cliente. Ok, detto questo vi vorrei parlare un po' di quali sono stati i benefici di adottare l'ERPA per questo processo. Sicuramente abbiamo apportato un miglioramento nella qualità, ok? Perché? Perché siamo stati costretti a standardizzare l'input, ok? Quindi abbiamo dato modo di lavorare in maniera un po' più strutturata, ok? Tramite l'ERPA e i log che mette a disposizione, ma anche tramite il DB, abbiamo fatto in modo di tracciare ogni singola attività che il bot faceva su SAP, con anche il dettaglio dei dati che andava ad inserire, ok? Abbiamo sicuramente ridotto quegli step manuali molto ripetitivi e eliminato anche gli errori umani dovuti alla distrazione, no? Abbiamo ridotto tantissimo il tempo perché siamo passati da 10 giorni di customizzazione a 3 o 4 ore. Quindi abbiamo sicuramente ridotto i costi perché il bot non è stato creato per customizzare una singola company, ma ovviamente una volta creato e sviluppato può essere utilizzato per customizzarne altre, ok? E innanzitutto abbiamo migliorato il controllo e il monitoraggio del processo. Benissimo, passiamo a farvi un overview sulla suite di UiPath. Allora, innanzitutto UiPath è leader nel mercato delle piattaforme RPA. In cosa consiste? Cosa offre? Ci offre innanzitutto tre componenti. Lo studio, che è un designer visuale, ok? È un tool che ci permette tramite il drag and drop di implementare il nostro processo automatizzato. Ha delle activity già presviluppate, quindi per la maggior parte dei casi non è richiesto del codice, ok? Possiamo utilizzare già quello che ci fornisce. Insieme allo studio abbiamo l'orchestrator. L'orchestrator è il prodotto che ci permette di gestire e organizzare tutto ciò che ruota attorno alla nostra automazione, quindi dal robot, quindi dalle macchine in cui vengono eseguiti i processi, ai processi stessi, con tutte le loro versioni, anche agli asset, ad esempio. Gli asset sono, possiamo vederli come il salvataggio di credenziali per l'accesso ai portali, per l'accesso ai database, quindi che vengono poi crittografati, quindi c'è anche una sicurezza in più. Oppure delle costanti, delle distribution list, che possono essere utilizzate dai robot. I robot possono lavorare anche con le code di lavorazione, quindi dall'orchestrator riusciamo a gestire le code, gli elementi delle code e vedere il loro stato. Sempre dall'orchestrator possiamo vedere i log di esecuzione dei nostri processi e anche gestire ovviamente le schedulazioni, eventuali trigger. Tutto questo però non gira senza WePath Robot, che è praticamente l'esecutore dei nostri processi automatizzati. Quindi diciamo che implementiamo, sviluppiamo il nostro bot con lo studio, lo pubblichiamo sull'orchestrator, lo lanciamo e l'esecuzione vera e propria viene fatta dal WePath Robot. WePath offre la community edition. La community edition è praticamente la possibilità di utilizzare il software, quindi utilizzare lo studio, l'orchestrator e anche il WePath Robot per scopi didattici, per utenti per i privati, ma anche per piccole aziende. Io qui vi ho lasciato il link che potete utilizzare appunto per registrarvi gratuitamente, tutto gratuito e per poter cominciare ad utilizzare WePath. Sarete supportati sempre da una community. Quindi c'è un forum dove sicuramente troverete le risposte alle vostre domande. Un'altra caratteristica di WePath è quella che mette a disposizione un'academy online e facilita quindi l'adozione pure dell'apprendimento dell'RPA, perché vi dà un'introduzione su tutte le tematiche che girano attorno all'RPA, ma anche vi offre dei piani di apprendimento. Ad esempio c'è il piano di apprendimento RPA Developer Advanced, che è strettamente correlato alla certificazione. Questi corsi sono molto interattivi, non sono per niente noiosi. Durante i vari corsi ci sono dei quiz da superare, vi ho fatto qualche screenshot giusto per darvi l'idea, ma una cosa che ho trovato molto utile sono i video. Sono dei video che vi mostrano proprio come lavorare su WePath, con le trascrizioni in inglese e anche e soprattutto con degli esercizi pratici. Vi ho lasciato anche il link dell'academy, così potete, se avete voglia, potete andare a vedere, potete iniziare già ad imparare qualcosa oppure ad approfondire le vostre skill, se già li avete. Vi vorrei parlare anche un po' del programma di certificazione che offre WePath. Diciamo che si basa su due canali, si basa sul canale di General Track e Developer Track. Nella General Track abbiamo una certificazione che è indicata per quei ruoli che vogliono dimostrare le basi dell'RPA, le basi della tecnologia, di avere buone capacità di problem solving, di riuscire ad identificare i processi che possono essere automatizzati e possono anche implementare delle semplici automazioni. Quindi sto parlando in questo caso della certificazione WePath RPA Associate. Questa certificazione è consigliata per i junior RPA developers, gli architetti, i business analysts e così via. Invece nell'RPA Developer Track troviamo la WePath Advanced RPA Developer. Questa è una certificazione che è più mirata ai tecnici, quindi dimostra la conoscenza del framework che sta dietro WePath, che è il Robotic Enterprise Framework, e che permette di implementare delle soluzioni RPA molto complesse. Quindi è raccomandata anche a chi ha almeno 6 mesi di esperienza nel campo e consigliata agli architetti e a chi vuole dimostrare di avere un expertise di un certo livello sul prodotto. Bene, io ho terminato. Vi ringrazio innanzitutto e adesso passiamo magari… Allora, grazie mille, sei stata chiarissima. Buon amore. Andiamo per me. Allora, andiamo alle domande. C'è Francesco che ne ha fatte diverse, però ti riassumo un po'. Per quanto riguarda, in caso di errore del bot, oppure, tu un po' l'avevi accennato, ma magari se ci puoi aggiungere qualcosa, cosa succede? Cioè, si si blocca il processo e poi dici… Allora, ci si è riferiti, cioè ci si sta riferendo al caso d'uso in particolare o in generale a tutte le automazioni? Anche in generale. Allora, diciamo che nell'RPA ci sono due tipi di eccezioni, due tipi di errori che si possono rappresentare. Una tipologia d'errore è quella lì applicativa, ok? Quindi è quella che riguarda… Non lo so, stiamo navigando su un portale, il portale non risponde più, non ci presenta la pagina che ci aspettiamo, il bot non sa cosa fare, ok? Quindi questa è la tipologia di eccezione applicativa. In questo caso è consigliato di implementare, di utilizzare il framework innanzitutto, che è il REF, il Robotic Interface Framework, che permette già di gestire queste le eccezioni. Quindi, in pratica, quello che consiglio in caso di system exception, di eccezione applicativa, è di inviare una mail al supporto e di far sì che il supporto poi vada a controllare il bot, ok? Se si applica il framework, in caso di eccezioni applicative, quello che è previsto è che si vanno a chiudere tutte le applicazioni che sono state aperte e si va a ricominciare un giro pulito. Quindi, in quel caso, si va a fare logout, si va a killare il browser e si riapre facendo un giro, diciamo, pulito. Magari l'eccezione applicativa non si ripresenterà più, ok? Dopo un tot numero di volte impostabile, configurabile, se continua a presentarsi l'eccezione, allora solo in quel punto si andrà a contattare il supporto. Questa è l'eccezione di tipo applicativo. C'è un'altra tipologia di eccezione, che è quella di tipo business, ok? Supponiamo di... provo a farvi un esempio. Supponiamo di essere... che stiamo compilando una form su Salesforce, ok? Il bot sa che deve compilare, arrivare fino alla fine, cliccare su avanti e andare a spostarsi sull'altra pagina di Salesforce. Quello che succede, invece, è che compare un pop-up di errore. Bene. Il bot non sa più cosa fare, non può andare avanti. Quindi, che cosa si fa? Questa è un'eccezione di tipo applicativa. si cattura il pop-up, ok? E magari si manda un'email al business dicendo attenzione al business, sto dicendo, non al supporto, perché il supporto non saprebbe cosa fare. L'avessero saputo, l'avrebbe implementato. Si manda un'email al business e gli si dice attenzione, il bot non può andare avanti per questo motivo. Quindi, abbiamo due tipi di eccezione. che, utilizzando il framework, si riescono a gestire. Non so se ho risposto alla domanda, se ho risposto da dimensione. Sì, abbiamo risposto, diciamo, un po' più generale, ma giustamente è utile anche per tutti. Nella chat puoi trovare una domanda per quanto riguarda la sicurezza. Ci sono vulnerabilità in questi bot? Allora, direi di no, perché comunque è gestito tutto dalla piattaforma di RPA. Cioè, non mi sono mai dovuta preoccupare di andare della sicurezza, perché comunque è la piattaforma di UiPath, in questo caso, io l'ho sviluppato su UiPath, che si occupa di rendere il tutto sicuro. Ok. Allora, vediamo. Io di solito ti faccio sempre questa domanda. Che tipo di figure sono coinvolte in questo tipo di progetti? Cioè, il tuo team, da chi è composto? Così almeno diamo un po' qualche indicazione utile. Ok. Allora, innanzitutto serve una figura del mio livello, che permette di gestire le figure che stanno sotto, che sono magari più operative, e di interfacciare, di interfacciarsi con il cliente. Ok. E quindi di capire le esigenze del cliente, di tradurle in qualcosa un po' più di pratico. Ok. Sono necessari sicuramente gli sviluppatori RPA, senza di loro le domazioni non sarebbero possibili. e, diciamo, per applicazioni complesse è richiesto un certo livello di expertise. Quindi, un progetto del genere, come quello che ho descritto, da uno sviluppatore con poca esperienza, non poteva andare in porto. Perché alla base di tutto c'è l'analisi e c'è l'architettura, ok? Il progettare il bot, il progettare quello che il bot dovrà fare. Queste sono skill che si acquisiscono col tempo. Ok. Da uno sviluppatore junior non ci si può aspettare tutto questo. Ok. Quindi sono team, che comunque sono piccoli team, ma comunque con un'esperienza... Sì, giusto per dare un'idea, in quel progetto che ho presentato c'erano due sviluppatori senior, quindi con qualche anno di esperienza, c'ero io, e poi c'era una parte funzionale che appunto ci spiegava cosa fare su SAP, perché SAP non è, diciamo, non lo conoscevamo, quindi serve qualcuno che ci indichi un po' quali sono gli step operativi che il bot dovrà fare. Ok. All'interno di Entity Data c'è una sorta di formazione per questi tipi di progetti, per allinearsi un po' e per iniziare questo tipo di progetto, oppure... Allora, come azienda siamo abituati a non abbandonare le persone, cioè, anche se non abbiamo un corso di formazione proprio sull'RPA, una persona junior che magari inseriamo nel team viene comunque sempre sostenuta da una figura più senior che la guida e appunto lo risolve i dubbi che ha. Ok. Oltre al fatto, vabbè, per quanto riguarda l'RPA c'è l'Academy di WebAdder eccezionale. Io stessa l'ho seguita e ho conseguito anche la certificazione, quindi la consiglio, mi sento di consigliarla perché è veramente fatta bene. Perfetto. C'è sempre una domanda in chat se vuoi leggerla tu e dimmi, Vitalia. Io vedo solo quelle di Francesco. Dove stanno? Nella chat. Nella chat. Ok. Che ruolo gioca il Regex, vabbè, la Regular Expression e l'RPA per il filtraggio dei dati non strutturati soprattutto? Allora, noi l'abbiamo utilizzato. L'abbiamo utilizzato diciamo che è importante conoscerlo perché viene sicuramente utile nel progetto. Poi, non lo so, cioè, non saprei a cos'altro dire, sinceramente. ok, quindi serve comunque questo tipo di progetti? Sì, sì, può essere utile. Diciamo che puoi sviluppare un'automazione anche senza avere basi diciamo approfondite della programmazione, ma se ce li hai, hai una spinta in più perché molte cose le fai più velocemente. Certo. dicevi quanto durano questi tipi di progetti per l'analisi e tutto quanto? Allora, dall'analisi al go live in produzione possiamo dire che è un progetto semplice richiede almeno un dieci giorni di sviluppo. Uno medio, un mesetto, un mese e mezzo, uno complicato anche di più. Questo di SAP ad esempio ci ha richiesto tre mesi, cotto mesi. Ok. È ovviamente più risorse. Interessante. Interessante. Ci sono altre domande oppure vediamo, aspettiamo un po' se qualcuno vediamo nella sezione domande se possiamo. Allora, Pietro, quali linguaggi sono stati utilizzati nell'automazione? Direi nessuno a parte le SQL per interrogare il DB. Tutto il resto è stato fatto utilizzando le SAP Activities, quindi che è un pacchettino di activity precostruite per interagire con SAP che ti mette a disposizione via PATH e come codice no, semplicemente giusto delle query per interrogare il DB e per poter interagire con il DB. Ok, perfetto. Guarda, al momento non ci sono altre domande. Rinnovo, allora, caricheremo la presentazione di questo webinar domani mattina sul nostro canale YouTube. Troverete anche la presentazione di Caterina dove potrete anche rivedere tutti i vari link che ci hai consigliato. Vediamo, ho sentito un'ulteriore domanda, vediamo. Ok, quale percorso di studio è utile per intraprendere questo lavoro? Oppure parlaci della tua esperienza, cioè come sei arrivata... la domanda, non ho capito la domanda. Quale percorso di studio è utile intraprendere per fare questo tipo di lavoro, il tuo lavoro? Ah, il mio lavoro? Ah, ok. Per quanto mi riguarda sono laureata alla magistrale di informatica, non ingegneria informatica, però vi dirò ragazzi che nel nostro team del PA abbiamo anche persone che non sono laureate in informatica perché appunto è buono e utile avere delle conoscenze sulla programmazione, su almeno un linguaggio di programmazione, è utile conoscere il database e sapersi muovere, ma non è essenziale, non è fondamentale, si possono costruire dei bot sfruttando ovviamente delle piattaforme RPA senza avere per forza una base da programmatore, quindi apre le porte anche al lavoro diciamo di persone che non sono informatico, comunque non sono nel nostro, nel mio ambito. Ok, vediamo, sento ancora il chat, altra domanda, che tipo di DB avete utilizzato? Allora, abbiamo utilizzato quello che ci ha messo a disposizione il cliente che era Microsoft SQL Server. Ok. Ma possiamo lavorare anche con Oracle e anche con MySQL. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro. Non vedo altre domande. Vediamo, abbiamo fatto siamo allo scadere del webinar, quindi se non avete nessun'altra domanda io chiuderei la serata con del webinar. Io ringrazio molto Caterina, Bruno. Io ringrazio te e voi per l'opportunità. Di questo intervento. Ecco, l'ultimissima Alessandro che ci chiede, è un settore dove c'è molta richiesta? Sì. Ok. Perché appunto si sta andando verso la digitalizzazione delle aziende e l'RPA facilita proprio questo. Ok, perfetto. Allora, chiudiamo così. Invito, come sempre, tutti a andare su Rete Informatica Lavoro a consultare le offerte di lavoro, ovviamente anche quelle di Entity Data Italia. e seguiteci sempre sui nostri canali social, dove preferite, siamo su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram. Vi condivido anche il link del nostro gruppo Facebook dedicato ai developer, così potete richiedere l'iscrizione. Grazie mille ancora Caterina, Bruno, gente di Nath, è stato un piacere conoscerti e a presto. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. Grazie. Grazie.